Come cambia il progetto del nuovo stadio? Quali sono le novità più significative? Diciamo che abbiamo dato un'impronta verde a questo progetto. Abbiamo di fatto rivoluzionato abbattendo del 50% le cubature, per cui meno cemento, così come avevamo detto in campagna elettorale. Ma di fatto rimangono le opere necessarie, tutte le opere necessarie al supporto dell'utenza allo stadio, ma non solo, anche al supporto dei cittadini, perché avremo un investimento importante di 45 milioni sulla Roma Lido, per cui una tratta che verrà potenziata. Abbiamo un allargamento della via del mare. Un progetto verde perché all'interno abbiamo previsto più verdi, più alberi, per cui sarà un progetto fruibile per i cittadini che potranno godersi i vari parchi che sono compresi all'interno del progetto dello stadio. Abbiamo ridotto l'utenza dello stadio a supporto dei dati che sono ben consistenti e comunque vengono confermati. Ci sono tutte le opere necessarie, il ponte pedonale, abbiamo messo all'interno del progetto il ponte dei congressi che comunque aiuterà per quello che riguarda il discorso della viabilità e della mobilità. Insomma, un progetto sano che il Movimento 5 Stelle ha garantito e garantirà per il futuro. Grazie.